Sto qua, ho trovato un trucchettino per, visto che non si potrebbe dire perché è stato bannato, ho trovato un trucchettino, la musica è arte, wow! Non chiedo scusa, forse forse chiedo colpa di raffallo, che è il motivo vero se mi hanno bannato perché vuoi sapere che ero bianco? Comunque io mi sono accorto, quando si parla di dipendenze, che uno può essere dipendente dalla droga, può essere dipendente dalla nicotina, può essere dipendente dal sesso, può essere dipendente dal gioco d'azzardo, ecco io in questi giorni in cui non ho streammato, perché sono stati tanti in realtà, perché comunque non ho streammato mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e sabato, e che una strict senza streammare così lunga non la facevo dall'estate scorsa e comunque sapevo di farla, quindi è stata una roba ed ero in vacanza, ero riccione a farmi i cazzi miei, quindi invece qua è successo a caso ed ero a casa a non fare una minchia, no? E poi effettivamente anche la gente quando mi ha fermato in giro, mi è capitato che, non lo so, mi sentivo come un fantasma, capito? Come se non esistessi più senza Twitch e questo mi ha fatto capire che ho un'estrema dipendenza da questa piattaforma, perché è così, è innegabile, è innegabile che io non abbia una dipendenza da questa piattaforma, perché effettivamente sono andati i sbatti, sono andati i sbatti per il fatto che non ho streammato per quattro giorni, quattro giorni, quindi... Grazie!